Passiamo al question time. Quindi apriamo subito e secondo gli accordi presi sempre nella capigruppo iniziamo con l'interrogazione del consigliere Squarta riferita all'assessore Barberini chiaramente riguardanti l'utilizzo dei contributi assegnati all'azienda ospedaliera di Perugia a favore del centro di riferimento regionale per le persone affette da sclerosi amiotrofica. Prego il consigliere Squarta. 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 Il centro regionale è stato incardinato all'interno dell'azienda ospedaliera che attraverso il direttore facente funzione della struttura complessa di neurofisiopatologia, la dottoressa Teresa Cantisani, ha puntualmente relazionato sulle attività svolte nel centro per l'anno 2017. Alla luce di quelle attività che sono state puntualmente realizzate, la giunta regionale con la delibera del maggio 2018 ha ritenuto di sostenere ulteriormente queste attività assegnando un contributo specifico proprio per queste funzioni di ulteriore 100.000 euro. La stessa delibera citata dall'interrogante al punto 3 stabilisce che il centro di riferimento regionale incardinato all'azienda ospedaliera dovrà presentare una relazione a posteriore dell'attività che è stata realizzata all'anno 2018. Quindi ad oggi non essendo conclusa le attività è evidente che non può esserci relazione. C'è una relazione invece per l'anno 2017 che è stata allegata alla delibera citata, una relazione dove puntualmente nel centro di riferimento regionale effettua valutazioni neurologiche, fa attività di assistenza nel follow up, quindi con esami, con visita pneumatologica, con visite chirurgico-nutrizionali, con test neuropsicologici, valutazione di disabilità sociale e inoltre vengono effettuate consulenze specialistiche da effettuarsi in collaborazione con il distretto sanitario di competenza. Vengono effettuate inoltre segnalazioni della condizione clinica ai centri di competenza, così come vengono effettuate segnalazioni al centro ausili tecnologici su richiesta del neurologo. Ancora vengono effettuate attività per problematiche in condizioni di emergenza del malato di SLA, rilascio di certificazioni e viene anche fornito attraverso questo centro supporto per aiutare il familiare che si fa carico dell'assistenza del malato. Così come proprio per aumentare e migliorare l'offerta vengono svolte attività di formazione del personale e sono stati fatti nel corso dell'anno 2017 tre eventi proprio per formare i professionisti nel fornire assistenza a questi malati. Così come è partito nell'anno 2017 e sarà ulteriormente potenziato nel corso dell'anno anche una sorta di registro cartella informatizzata contenente tutti i dati relativi a tutte le SLA della regione Umbria per il monitorare e che diciamo cartella clinica informatizzata che permette di monitorare costantemente la popolazione affetta da questa malattia. È chiaro che questi sono tutti interventi che saranno ulteriormente potenziati e costituiranno oggetto di opportuna rendicontazione nell'anno 2018 così come prevede la delibera citata nell'interrogante. Grazie Presidente, aspettiamo a questo punto ovviamente la rendicontazione per quanto riguarda il 2018. Molto è stato fatto a ragione dell'assessore per quanto riguarda l'assegno di sollievo però sono molteplici le segnalazioni che ci vengono soprattutto dai malati che nonostante questo contributo sia stato aumentato però ci sono delle carenze importanti per quanto riguarda l'aspetto dell'ambito psicologico quindi di tutta l'assistenza nell'ambito appunto dell'aspetto della psicologia per quanto riguarda la diagnosi certa che ci sono delle segnalazioni per cui spesse volte non viene fatta una diagnosi certa ma si rimanda ad altri specialisti oppure che manca la figura del pneumologo in un centro così importante quindi sono notevoli le segnalazioni che ho ricevuto quindi spero che questi soldi in più che questo centro ha avuto noi con molta attenzione valuteremo nel 2018 come sono stati ovviamente spesi. Grazie. Liberati e Carbonari interrogano l'assessore Chianella sul contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Umbria e Busitalia, Sita Nord. Affidamento diretto dei servizi alla società dal 2019 al 2034. Informazioni della giunta regionale in merito. Prego consigliere Carbonari. Grazie presidente. Dunque in data 22 settembre 2017 Busitalia, Sita Nord inviò alla Regione Umbria una lettera con cui richiamando la precedente corrispondenza chiedeva un affidamento di durata decennale prorogabile fino a un massimo del 50% per il servizio ferroviario dicendo che in cambio di questo affidamento avrebbe fornito investimenti per complessivi 35 milioni di euro ferma restando l'esigenza che sia garantita adeguata remunerazione della commessa e proponeva pertanto di formalizzare un protocollo d'intesa. Nel 2017 e fine 2017 la giunta deliberava di valutare positivamente questa offerta di questa proposta e quindi è stato adottato un addendum al contratto di servizio 2015-2019 e quindi veniva autorizzato il dirigente del servizio competente, in nome per conto della Regione alla sottoscrizione di questo addendum con l'impresa Busitalia Sita Nord SRL. Quindi tenuto conto che per gli anni 2016-19 la nostra Regione è erogata a favore di Busitalia circa 7 milioni e 700 mila euro ogni anno e che quindi questo importo presumibilmente potrebbe anche salire che in questo protocollo d'intesa da un lato la Regione si impegna ad aggiudicare direttamente a Busitalia il servizio regionale con la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio, dall'altro lato c'è Busitalia che si impegna in un piano di investimenti di circa 35 milioni di euro però senza chiarire l'esatto ammontare degli investimenti, infatti c'è scritto circa e non almeno la tempistica di realizzazione di questo investimento che potrebbe alla fine essere anche fatto alla termine del contratto e quindi c'è una cosa generica in cui si parla di un parziale rinnovo della flotta ed adeguamento di quella esistente. La nostra richiesta è appunto quella di capire se ha ricevuto l'aggiunta i dettagli del programma di investimento prima di deliberare a favore di questo IVER che porterebbe a questo affidamento diretto fino al 2034 appunto chiarendo anche perché evitando la gara pubblica e chiarendo pure le tempistiche di realizzazione i vantaggi per l'interesse generale e quali misure la regione intende intraprendere al fine di cautelarsi da eventuali inadempimenti contrattuali di questa società, della città e la società. Grazie. Grazie Presidente. Sì, grazie consigliera Carbonari. Dunque la regione dell'Umbria è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti ai servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale come stabilito appunto dal decreto legge 422 del 1997 in base al quale si è provveduto con specifici contratti di servizio lei richiamava la cifra che è poco sopra i 7 milioni annui a regolamentare con affidamenti diretti i servizi ferroviari svolti dagli attuali gestori. La normativa europea inoltre, articolo 5 paragrafo 6 del regolamento comunitario numero 1370 del 2007 contempla la procedura di affidamento diretto fino all'anno 2023 per l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto ferroviario consentendo altresì, all'articolo 4 paragrafo 4 di estendere la durata dei ridetti contratti del 50% in ragione della significatività degli investimenti previsti a carico dell'operatore del servizio pubblico. La sopra richiamata disciplina, quindi è un'opportunità ovviamente che le regioni hanno non solo la regione dell'Umbria ma anche altre regioni hanno aderito a questa possibilità la sopra richiamata disciplina in tema di affidamento del servizio di trasporto ferroviario prevede pertanto la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto ove consentito appunto dalla disciplina nazionale come modalità in tutto e per tutto equivalente alla procedura di gara. In tale contesto è stato valutato positivamente la proposta di investimenti offerti da Bus Italia nella misura stimata in circa 35 milioni come ha ricordato lei quale condizione indispensabile perché si possa divenire a un affidamento diretto pluriennale che dovrà consentire il rinnovo di buona parte della flotta in uso sviluppi informatici, adozione di nuove tecnologie e manutenzione ciclica dei treni e conseguentemente un sensibile miglioramento dei livelli di servizio offerti. All'impegno manifestato da Bus Italia è evidente che dovrà far seguito quindi la procedura è tuttora aperta se vogliamo ha scontato anche un piccolo ritardo insomma la redazione a cura della medesima società di un dettagliato piano di investimenti che dovrà anche tener conto dei lavori di ammodernamento della rete ferroviaria regionale ancora in corso e in particolare delle nuove tecnologie per la sicurezza che verranno adottate. Il succitato piano sarà oggetto di attente valutazioni da parte della Giunta regionale e degli uffici ovviamente finalizzate da porare oggettive positive ripercussioni sugli standard e sulle prestazioni dei servizi ferroviari che saranno programmati e effettuati sulla nuova rete ferroviaria regionale. Grazie Assessore. Quello che ci pare mancare tuttavia oltre agli aspetti legati alla trasparenza di una gara che pare molto di là da venire è proprio il progetto di mobilità ferroviaria regionale e interregionale che non c'è perché noi pensiamo che sia fondamentale guardare davvero al prossimo secolo cioè di portare avanti un investimento che duri quanto è durata finora la ferrovia cioè altri cento anni. Per fare questo bisogna mettere in campo idee innovative e noi abbiamo già tentato di avanzarne una unitamente a altri soggetti forse un po' visionari ma a nostro parere altamente concreti che hanno ricordato come questa piattaforma che va da Terni fino a Sansepolcro passando per Perugia sia una base fondamentale per un eventuale futuro quadruplicamento della direttissima attraendo nelle nostre province ciò che già sta accadendo in Francia tutta una clientela importante per un servizio che diventa di qualità facendo in modo quindi che i treni a media o alta velocità passino anche dalle nostre parti e poi colleghino le nostre comunità in modo appunto rapido e con servizi davvero soddisfacenti per la clientela per l'utenza un'utenza che deve essere crescente altrimenti andiamo tutti con la gomma sull'Ai45 perché la velocità media come se lei sa è attorno ai 120 all'ora anche leggermente superiore ai limiti esistenti quindi io credo che se voi Regione in coordinamento col Governo non mettete in campo un progetto innovativo questi interventi resteranno lì come mera testimonianza tra l'altro forse si riaprirà tra 4 o 5 anni la Perugia Terni mera testimonianza di una cosa che doveva essere fatta anni prima ma mancante di una visione per il futuro grazie grazie consigliere liberati passiamo all'oggetto 1798 oggetto numero 155 risponde l'assessore Chianella interroga il consigliere Lionelli prego consigliere dunque l'interrogazione firmata e sottoscritta da me il consigliere Chiacchieroni è relativa alla tempistica all'erogazione di contributi relativi alla legge appunto 13 dell'89 detta in parole povere le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici privati in questa interrogazione appunto io e il consigliere Chianella preso atto che nella legge 13 dell'89 appunto ci sono disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e che questa legge prevede la concessione di contributi ai privati previa domanda degli stessi ai comuni di residenza e che questi contributi statali vengono erogati alle regioni che successivamente provvedono a liquidare le domande ai cittadini pervenute attraverso la richiesta dei rispettivi comuni di residenza ricordato che è considerato soprattutto che il governo Gentiloni nell'ultima fase chiaramente della sua attività aveva superato un impasse che c'era stata negli anni precedenti con uno stanziamento di ben 180 milioni di euro destinati alle regioni e alle province appunto autonome in particolare il ministero delle infrastrutture lo scorso maggio ha segnato tramite decreto alla nostra regione 1.231.000 riferito al 2017 3.693.000 per il 2018 2.462.000 per il 2019 e 3.693.000 per il 2020 che si tratta di contributi molto importanti perché incidono direttamente appunto sulla qualità della vita di quelle famiglie con a carico familiari con problemi di non autosufficienza motoria perché appunto con queste risorse possono come dicevamo prima abbattere barriere architettoniche negli edifici privati questo è un è una battaglia di civiltà è una battaglia importante è una battaglia nella quale lo scorso governo ha creduto fortemente nel frattempo devo dire che c'è stata anche da quando è stata depositata l'interrogazione che ormai è di qualche settimana fa c'è stato diciamo un quadro che si è evoluto volevamo capire appunto dall'assessore Chianella quello che è lo stato dell'arte fermo restando che appunto parliamo di una questione che veramente ha un'incidenza diretta nella vita di tante persone soprattutto di tante famiglie con disabili chiaramente nel proprio nucleo familiare immaginate appunto poter abbattere magari barriere architettoniche nel proprio appunto edificio nelle realtà chiaramente dove si svolge la quotidianità delle persone capite no che passo in avanti significativo per la qualità della vita stessa dei disabili ma anche chiaramente delle famiglie può concretizzarsi quindi questa è un po' la richiesta che io e il consigliere Chiacchieroni intendiamo fare all'assessore prego assessore sì grazie consigliere Leonelli e grazie consigliere Chiacchieroni perché questa interrogazione ci permette di esporre in maniera forse anche più compiuta di un grande risultato che la regione dell'Umbria ha conseguito in questi ultimi tempi perché esattamente come diceva il consigliere Leonelli questa risorsa che è stata messa a disposizione di 180 milioni dal governo Gentiloni all'Umbria arrivano 11 milioni in un quadriennio quindi è stato un risultato chiaramente se vogliamo anche inaspettato ma che premia comunque un lavoro svolto da parte dell'assessorato da parte ovviamente dei tecnici e anche da parte del sottoscritto è vero la legge 1389 riguarda un problema di dignità delle persone lo Stato ha finanziato questa legge fino al 2002 e dal 2002 in avanti è stata la regione in questo caso dell'Umbria le regioni che in alcuni casi si sono sostituite allo Stato ma sostituirsi allo Stato e quindi finanziando anche se parzialmente questo fa bisogno non ha esaurito tutte le richieste che erano e che sono tuttora diciamo così aperte che vengono fatte ai comuni ai diversi comuni dell'Umbria com'è lo Stato dell'arte noi abbiamo liquidato sin da subito nel giro di 50 60 giorni perché noi il decreto è stato emanato nel luglio scorso quindi noi a fine settembre abbiamo sostanzialmente liquidato la prima tranche che riguarda le annualità 17 e 18 che sommano circa esattamente a 4 milioni e 900 mila euro i comuni oggi stanno ovviamente istruendo le pratiche e pagando le persone che per anni non hanno avuto il rimborso che loro aspettava quindi direi un grande risultato di dignità soprattutto per dare una risposta alla dignità delle persone perché l'abbattimento delle barriere architettoniche è un problema tuttora diciamo evidente nelle abitazioni private e devo dire qualche volta anche in quelle pubbliche purtroppo grazie consigliere Lonelli prego consigliere Lonelli grazie assessore per la risposta esauriente sicuramente ci fa piacere speriamo che i comuni possano velocizzare chiaramente queste pratiche perché insomma poi il patrimonio edilizio della nostra regione lo conosciamo anche diciamo nelle aree urbane così come nelle aree rurali c'è un edilizia magari di tanti proprietari tanti cittadini tante famiglie normali che hanno ricostruito la casa con tanti sacrifici qualche anno fa quando ancora questo tema le barriere architettoniche non c'erano quando magari in famiglia non avevano ancora magari una figura di un disabile all'interno del proprio nucleo quindi chiaramente può andare ad adeguare sappiamo tutti con le difficoltà e le criticità del caso non è poi semplicissimo questo come diceva giustamente lei può essere un'ottima risposta quindi sicuramente gli 11 milioni per la nostra regione sono una cifra importante speriamo ecco su questo vi chiedo di vigilare che i comuni siano celeri efficaci meno burocratici possibile nel erogare il contributo stesso grazie adesso all'altra interrogazione del consigliere Mancini Fiorini stato delle aree di sosta utilizzate dalle imprese a seguito dei lavori effettuati sulla linea ferroviaria ex ferrovie centrale Umbra prego vicepresidente Mancini grazie presidente la nostra interrogazione ha l'oggetto il piazzale della stazione di San Secondo situata nel comune di Città di Castello come ben sappiamo il nostro servizio sulla nostra ferrovia centrale Umbra è stato sospeso il 12 settembre 2017 e successivamente a questa data dopo un lungo periodo di inattività sono ripresi i lavori di manutenzione straordinaria in pratica il piazzale della stazione dell'FCU di San Secondo è stato adoperato in questi mesi come area a tutti gli effetti di cantiere ciò ha provocato notevoli disagi perché quel piazzale e quella struttura era ampiamente adoperata come area di sosta e di manovra per quanto riguarda i genitori e comunque gli usufritori della scuola elementare di San Secondo come ben sappiamo è stata restituita la struttura anche con una notevole campagna mediatica che poi di fatto caro Presidente cari colleghi non ha subito determinato riapertura del servizio ma oggi possiamo constatare che dopo la riapertura del servizio sull'FCU quel piazzale è a tutti gli effetti ancora oggi assessore adoperato come cantiere tra l'altro non completamente custodito lo abbiamo potuto verificare con un nostro sopalluogo anche nella giornata odierna quindi chiediamo a lei e ovviamente alla giunta intera se è interessata a intervenire per espestinare il manto stradale della strada che porta ovviamente dalla provinciale alla stazione perché questa strada che ovviamente serve anche la presente scuola elementare è stata ampiamente deteriorata e rovinata e se la stessa giunta ha in mano o comunque ha intenzione di ripristinare e in che tempi ovviamente l'intero piazzale della stazione stessa grazie prego assessore Chianella sì grazie presidente grazie consigliere Mancini diciamo che la stazione di Sanseguo in realtà la tratta a Umberti di Città di Casello sono tre anni che è stata chiusa quindi diciamo è stato sospeso l'esercizio commerciale mentre Umberti di Ponte San Giovanni è solo da un anno le notizie che ho io consigliere Mancini è che ieri sono iniziati i lavori di asfaltatura sia del piazzale che di risistemazione della strada cura e spese ovviamente dell'impresa che ha effettuato i lavori sulla ferrovia che è stata ovviamente come dire obbligata tra virgolette a utilizzare qualche ferrovia nel caso specifico questa di Sansecondo per per il passaggio di mezzi di mezzi d'opera non c'è stato non ci sono stati problemi la ripresa dell'esercizio il 25 ottobre ha comportato comunque la segnalazione di eventuali pericoli ovviamente il circoscrivere diciamo quelle zone che in qualche maniera sono state aree di cantiere necessariamente aree di cantiere per cui dalle notizie insomma che noi abbiamo non ci sono stati diciamo così problemi di questo tipo la notizia che io ho è che da ieri sono iniziati i lavori di sistemazione della stazione di Sansecondo e quindi stanno andando avanti e quindi speriamo che ripristinano vengano ripristinate diciamo così quelle aree vengono sistemate quelle aree che in qualche maniera effettivamente sono state danneggiate durante il corso dei lavori grazie grazie prego vicepresidente Mancini dunque allora posso diciamo come ho accennato nella prefazione io ho fatto il sopralluogo stamattina in effetti c'è un'asfaltatrice parcheggiata nella strada adiacente c'è del materiale di AIA e altro predisposto sul piazzale quello che ovviamente mi preme qui diciamo ricordare portare a conoscenza dei colleghi consiglieri che evidentemente questa operazione poteva e doveva essere fatta prima e secondo me mi permette assessore una critica che faccio non ovviamente in questo caso a lei come assessore o eventualmente alla giunta faccio riferimento a una critica che estendo fuori da questa struttura a chi si prende l'impegno di adempiere dei lavori tra l'altro ampiamente pagati e pagati bene e diciamo all'interno di questi lavori si deve determinare anche la cura di tutto quello che sono gli aspetti cantieristici anche al di là ovviamente non dell'opera ma del ripristino dello stato dell'arte prima di iniziare quel cantiere tutto questo diciamo per me è occasione assessore di rivendicare un andazzo negativo che molte volte diciamo si è più volte manifestato forse perché non si sorveglia abbastanza e non si è categorici abbastanza questo lo voglio qui ricordare noi in generale subiamo come istituzioni pubbliche quindi non solo come regione ma parlo anche di comuni e province molte volte il rincorrere lavori fatti che molte volte ci vedono eccepire i stessi lavori abbiamo recentemente trattato questioni che riguardano lavori svolte da società loro malgrado coinvolte in situazioni diciamo di criminalità organizzata non è ovviamente il caso di cui stiamo parlando oggi ma oggi si pone un atteggiamento mi permetta più aggressivo e più autoritario perché tale è la necessità di agire nei confronti di chi a fronte di lavori assunti come abbiamo visto in generale un po' in tutta l'Umbria abbiamo poi i stessi lavori che non sono ovviamente rispettati nei termini e nella qualità dei materiali questo ci pone l'obbligo ovviamente di agire con più tempestività e con più intensità e severità grazie grazie a tutti